Buonasera, io sono Sonia Caporossi e l'opera di Gian Paolo Mastropasqua di cui mi accingo a parlare si intitola hologramma in La minore con un evocativo sottotitolo accordatura orchestrale a 432 Hz. Come è noto ai musicisti l'accordatura in La centrato sulla frequenza a 432 Hz si riferisce a una intonazione naturale che si presume emani dalla vibrazione stessa dell'universo, in accordo con la quale l'essere umano si ricongiungerebbe con l'armonia del cosmo, il quale come è noto è composto prevalentemente di materia e vibrazione, come già sapeva Platone nel Timeo, in riferimento alla teoria della rotazione delle sfere celesti e dell'armonia mundi che ne deriverebbe. Allo stesso modo un ologramma altro non è che un pattern d'onda interferente che si ottiene tramite un laser coerente. Le frange di interferenza creando un effetto di parallasse percettivo danno l'illusione della tridimensionalità dell'oggetto. Gian Paolo Mastropasqua, musicista e poeta, con questa opera cerca di gettare un ponteggio metasimbolico tra queste due istanze, quella vibrazionale musicale e quella visuale proiettiva, architettando un proiectum poetico di grande complessità concettuale e figurale insieme, un pro-getto in senso quasi ed eggeriano, in cui il senso interno del messaggio si estroflette non attraverso un'unica modalità espressivo-comunicativa, bensì una, la musica, due, l'arte visiva, tre, la geometria, quattro, la poesia. Per equilibrare le stratificazioni semantiche di questo politropico tracciato di significazione, Mastropasqua compone in questo libro una struttura di dodici canoni inversi, dodici come i semitoni musicali, che si contrappongono specularmente a formare un intreccio sinestesico composto dalla collaborazione di più sensi insieme. Si tratta, sulle prime, di un dialogo tra un tu e un io, che rinviano l'istanza comunicativa nel continuum del circolo delle quinte, in una concatenazione a Coblas Cap Finidas, che non detiene solamente la sostanza immaginifica della forma romboidale, ma ricalca anche la medesima struttura ecoica dell'armonia dell'universo. La concertazione, in tal senso, comincia in La minore, appunto. Il romboide, figura iconica che ha i lati opposti paralleli e uguali a due a due, e gli angoli uguali a due a due, due ottusi e due acuti, viene tenuto fermo come rappresentazione del dialogos, imago della dualità della comunicazione, in un simbolismo anche visuale, se è vero che il bianco e il nero, come nello sviluppo di una pellicola fotografica a partire dal suo negativo, rimanda, tale doppio gioco, in una perpetua oscillazione sensitiva, fino a che il romboide non si inarca su se stesso capovolgendosi, sezionandosi e contrapponendosi brano a brano, in una reduplicazione speculare, calidoscopica, ovvero trasformandosi in una clessidra man mano che le coblas capfinidas si avvicendano attorcendosi intorno al proprio autonomico richiamo. Ed ecco che tu ed io perdono di natura soggettiva e divengono dapprima, ma brevemente, locazioni oggettuali di un qui e di un lì, e subito dopo coestendono la natura stessa del canone musicale alla dimensione del poetico, nell'antica struttura di un partimen occitanico in cui il dilemma qui non si dipana, come tra i povenzali accadeva in forma di domanda e risposta, bensì in un flusso ininterrotto di indeterminazione visual sonora che squarcia il velo della realtà occhieggiando alla poesia visionaria di Rimbaud. Non è una tensione, infatti, ma un gioco di scambi, un'arte della fuga in evasa, un ritorcimento escheriano intorno alla natura stessa della parola poetica, indagata principalmente nella sua porzione significante. Questa dimensione formale non rimane fine a se stessa, bensì assume una coesione di senso e significato maggiormente comprensibile se pensiamo alle modalità associative attraverso cui la psicanalisi scandaglia lo strato ipocosciente della percezione. Il doppio gioco musicale-visuale operato in ologramma in La minore di Giampaolo Mastropasqua è sempre anche un atto scientemente proiettivo, come si diceva, ovvero un tentativo di superare le barriere della coscienza. Il contenuto dilegua nella forma e muta stato fisico scorrendo nel flegma di una composizione mistica e densa, che si fa assoluto atto comunicativo, sincretismo delle arti, composizione totale. Leggo un testo per Bologna in lettere da ologramma in La minore, accordatura orchestrale 432 Hz, pubblicato gratuitamente in tutta la sua concezione creativa dall'editore Causfera, con opere all'interno di Donatella d'Angelo e anche in copertina e con le preziose note introduttive di Tommaso Chemni e Valentina Colonna. In tutto il libro vi sono almeno due voci che dialogano tra loro. Il libro vuol rappresentare un attraversamento dell'inferno, della contemporaneità, le due voci maschili e femminili sono Orfeo ed Euridice, ma anche il poeta e la poesia in un discorso amoroso e vengono a formare dei frammenti di DNA basati sulla figura del triangolo moltiplicato all'infinito. Tu soffi limpida sulla fronte occipitale del padre silenzio, come la fuga antica che ritornava infanzia, frantumandoci come pioggia nella calda oralità promiscua della prima lingua di luce attinta. Come il fuoco che chiamammo amore tra questi monti lattescenti con cui difendemmo il rito per la danza sottile dove muore l'uomo e nasce l'altro in pianure sepolta vivo io. Io vivo sepolta in pianure e nasce l'altro dove muore l'uomo per la danza sottile con cui difendemmo il rito tra questi monti lattescenti, come il fuoco che chiamammo amore della prima lingua di luce attinta nella calda oralità promiscua frantumandoci come pioggia che ritornava infanzia come la fuga antica del padre silenzio occipitale sulla fronte limpida soffi tu. Confesserò per Bologna in lettere la poetica che fonda ologramma in la minore accordatura orchestrale 432 hertz in estrema sintesi visti i tempi. Una poetica che nasce circa un ventennio fa con silenzio con variazioni e quindi è tesa all'indagine del rapporto tra la parola, il silenzio, il suono, quel silenzio che è un silenzio in musica, quindi musica. Tommaso Chemeni nella nota introduttiva parla di poesie tridimensionali o verbo-voco-visuali. mi sono ispirato, come anche lui dice, a Vision and Prior, a quell'opera del bardo dal corpo spezzato di Alan Thomas, ma portandola alle estreme conseguenze perché ologramma in la minore come un canone anterogrado e retrogrado fiammingo del 1400 può essere letto dall'inizio alla fine, dalla fine all'inizio, è formato da sillabe crescenti e decrescenti che rappresentano chiaroscurali musicali progressive. Valentina Colonna parla di una meraviglia polifonica di ricerca artistica pensando alle somiglianze meno teoriche con l'offerta musicale di Bach o con il clavicembalo ben temperato. Certo da 12 testi iniziali divengono poi per moltiplicazione 24, quindi rappresentando anche partendo in la minore perché siamo in un tempo minore e con le relative maggiori raggiungono 24 che rappresentano la totalità delle tonalità musicali possibili e ancora si moltiplicano divenendo 48, divenendo altro fino a costruire nell'architettura dei frammenti di doppia elica di un DNA dove per basi vi sono le sillabe io, tu, qui, lì, io e Dio.